Avrebbe vinto la squadra che mentalmente sarebbe rimasta più dentro la partita nel corso dei 40 minuti e direi che Bologna l'ha fatto e ha portato a casa la vittoria più che meritatamente, ha avuto un livello di energia sicuramente superiore alla nostra e questa l'abbiamo sofferta tutta la partita, nella prima parte dell'incontro abbiamo avuto ottime percentuali da 3 punti che questo ci ha permesso di comunque rimanere a contatto, andare anche avanti ma soprattutto di fare punti, nel momento in cui le percentuali da 3 punti si sono abbassate non avendo possibilità di trovare Canessi dentro l'area, avendo anche pochi vantaggi dal punto di vista fisico, sicuramente abbiamo sofferto una difesa solida, tosta, soprattutto una fisicità che Bologna ha come principale caratteristica. In attacco abbiamo seguiti sicuramente al rimbalzo, secondo me hanno preso più di 11 rimbalzi offensivi, abbiamo concesso troppe seconde opportunità e questi sono punti chiaramente regalati che poi alla fine di una partita, sommando a una disastrosa percentuale liberi, se li sommiamo abbiamo perso di 4, ma è chiaro che sono tutti punti che poi vai a sommare l'uno con l'altro. Sicuramente potevamo fare meglio in tante situazioni, penso a tante palle recuperate che non abbiamo concretizzato poi in contropiedi, è una situazione di sovrannumero, alcuni tiri sbagliati da sotto, sono situazioni che dovuti chiaramente al caso, il tiro entrato è uscito, questi sono sicuramente punti che ti vengono a mancare alla fine, però l'analisi tecnica e il problema grosso è stato quello che ti ha subito, una fisicità di Bologna che te stasera non potevi averne alla pari. C'è mancato il nostro giocatore di energia, noi siamo una squadra che non possiamo regalare niente, per rendere al massimo è una macchina costruita per andare tutti insieme, è chiaro che quando ti viene a mancare uno dei pilastri e Most è uno dei pilastri della squadra, è chiaro che hai un valore inferiore rispetto a quando sei al completo, non è che dico, chiaramente non si è perso perché mancava Most, la potevi vincere allo stesso modo, però è un giocatore che per noi è un giocatore che ha più fisicità, quindi magari anche a livello sottodifensivo avrebbe sicuramente aiutato.